Si torna a parlare in questi giorni della fusione, della possibile fusione tra le camere di commercio di Pescara e Chieti. La Confcommercio dice no e parla invece dell'idea, ripropone l'idea, il progetto di un'unica camera di commercio all'Aquila. Ma è datata, perché noi lo diciamo da un anno e mezzo, in una logica di spending review è molto meglio fare una camera di commercio all'Aquila e le altre tre sedi camerali rimangono a gestire, monitorare, favorire il territorio. C'è solo un presidente, un aggiunto, un consiglio, tutti gli altri a casa. Questo significa anche, man mano che il personale va in pensione e che non c'è turnover, che anche la pianta organica di questi tre enti, Chieti, Pescara e Teramo, si riduce. È una cosa di buonsenso e non capiamo perché, nonostante i nostri rappresentanti in consiglio camerali l'abbiano detto un anno e mezzo fa, si torna a parlare oggi di problemi di camera di commercio. L'obiettivo è fare una camera di commercio. Secondo lei questo è un obiettivo proponibile, perseguibile, raggiungibile? Guardi, se c'è buonsenso e non c'è malafede, non ci sono interessi, è raggiungibile. Anzi, dirò di più che oltre all'Abruzzo, Campobassi e Sernia, in caso di unica camera di commercio, sono già disposti ad entrare. E quindi, a intenditore, poche parole. Buone parole, poche parole, ma buone parole.